un cordiale saluto e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento podcast oggi parleremo dell'educazione finanziaria o meglio del mese dell'educazione finanziaria il mese di ottobre è infatti il mese che è dedicato proprio a questo tema l'educazione finanziaria sapete quanto ci tengo sapete quanto sto facendo per questa tematica e quindi l'inizio di questo mese mi ha portato a considerare di fare un podcast perché secondo me vale la pena proprio riflettere su cosa sia stato fatto ma soprattutto su cosa ci sia ancora da fare in italia su questo tema un tema che è come vi ho detto in apertura per me è veramente importante se non al primo al primo posto delle delle priorità proprio una priorità per me quello dell'educazione finanziaria sicuramente gli eventi dell'ultimo anno e mezzo hanno dimostrato ampiamente i vantaggi dell'avere una buona educazione finanziaria rispetto a chi non ha una buona educazione finanziaria se pensiamo a quello che è successo appunto nei mercati lo scorso marzo 2020 ad inizio pandemia chi ha avuto un atteggiamento guidato dall'emotività e quindi da ragionare come dico sempre con la pancia è corso a vendere o meglio a svendere avrebbe chi ha condotto questo tipo di attività ha portato indubbiamente a un risultato che è stato quello di intaccare il proprio parte il patrimonio portando a casa dei risultati negativi e cosa ancora peggiore sarebbe pensare a la perdita che c'è stata di valore per chi ha venduto sul mercato italiano in un momento dove l'indice della borsa italiana è arrivato sotto i 16 mila punti un punto veramente di minimo da cui poi è partita una risalita che ha condotto l'indice a sfondare la soglia dei 26 mila punti nel corso del 2021 quindi anche questa volta come è successo e come abbiamo osservato in passato nelle varie crisi precedenti la storia insegna che i mercati azionari hanno la capacità di riprendersi dalle ricadute in tempi più o meno brevi e che anche un periodo in un periodo di panic selling se vissuto con le giuste conoscenze può offrire grosse ma grosse opportunità agli investitori ed è quello che abbiamo visto proprio l'anno scorso i miei assistiti i miei clienti hanno mantenuto le loro posizioni e quindi non hanno avuto perdita in conto capitale qualcuno invece ha avuto la forza di investire in quel momento lì ma soprattutto abbiamo ragionato per obiettivi quindi se il nostro era un obiettivo di medio lungo termine non era il caso di andare a vendere e questo ha portato indubbiamente a non una parita di valore spesso però ci si trova a fare i conti con il più famoso dei bias cognitivi della finanza comportamentale ovvero la versione la perdita le teorie dei più famosi premi nobel dicono che la motivazione a evitare una perdita è due volte più potente della motivazione a realizzare un guadagno incredibile ma vero tuttavia è quello che sostengo sempre io è che solo con una strategia razionale e di lungo periodo possiamo andare a raggiungere importanti obiettivi di finanza personale ragionare nel breve termine sugli investimenti non è assolutamente proficuo e quindi questo si ricollega al famoso concetto della piramide dei bisogni quindi pianificare in maniera corretta e queste sono situazioni cose che non possono prescindere da una buona educazione finanziaria cioè se abbiamo una buona educazione finanziaria non commettiamo errori e pianificiamo bene pensate che secondo l'ultimo sondaggio annuale della consob nel corso del 2020 il tasso di partecipazione ai mercati finanziari delle famiglie italiane è leggermente cresciuto da un 30 a un 33 per cento ma se questo può essere un segnale positivo il report dello stesso anno realizzato la banca d'italia sull'alfabetizzazione finanziaria definisce invece un quadro veramente ancora molto disastroso quindi mentre da una parte c'è stato un incremento del ricorso ai mercati dall'altro siamo ancora molto indietro in termini di alfabetizzazione finanziaria questa indagine quella appunto condotta dalla banca d'italia ha preso in considerazione tre parametri di valutazione utilizzati dall'oxe conoscenze comportamenti e attitudini quindi questi tre parametri conoscenze comportamenti e attitudini veniva assegnato un punteggio complessivo che variava da 1 a 21 punti sulla base di questo il livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani nel 2020 si è attestato a 11,2 punti su una scala che andava da 1 a 21 mettendo a confronto l'italia con il resto del mondo a livello internazionale su 26 paesi che sono stati presi in considerazione noi siamo 25 esimi davanti solamente a malta quindi capite bene che nonostante siamo un popolo di grandissimi risparmiatori che abbiamo migliorato la nostra capacità di non tenere tutti i soldi sul conto corrente ma di andare a investire ciò nonostante siamo ultimi in termini di alfabetizzazione finanziaria e questi numeri che sono davvero molto significativi e tristi allo stesso tempo ci dicono che la strada da fare è ancora molta e occasioni come questo mese dell'educazione finanziaria ritengo siano fondamentali per migliorare una situazione che concorderete con me è assolutamente deficitaria quindi da parte mia in questo mese cosa farò in più rispetto agli altri mesi di diverso sostanzialmente nonostante niente perché i contenuti che io andrò a sviluppare nel corso del mese saranno sempre costanti e con la solita regolarità ma saranno temi sempre più incentrati nel dare indicazioni e informazioni base per poter migliorare con fin partendo dalla base il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria è partita proprio il primo di ottobre venerdì una campagna anche pubblicitaria sul Corriere della Sera il sarto Corriere di Verona dove invito i risparmiatori a seguire i miei podcast dove invito i risparmiatori a scaricare gratuitamente il mio ebook consigli pratici su come investire piuttosto che richiedere il mio magazine trimestrale piuttosto che il mio libro tutte queste cose che si possono scaricare gratuitamente sono contengono informazioni base per una corretta pianificazione finanziaria e per un miglioramento della nostra alfabetizzazione quindi penso che sia una grande occasione per chi non l'ha ancora fatto di iscriversi al mio canale telegram piuttosto che trovarmi su speaker o su altri podcast tipo google podcast apple podcast piuttosto che su spotify per ascoltare le mie informazioni base perché sono informazioni semplici piuttosto che scaricarsi l'ebook piuttosto che il magazine o il libro e per qualsiasi cosa sono a disposizione per poter dare delle informazioni base perché se vogliamo migliorare il processo di risparmio in italia non commettere non cadere purtroppo poi negli errori che negli ultimi anni hanno caratterizzato purtroppo il spesso il nostro paese è quello di avere informazioni precise puntuali in modo da poter sapere e capire di cosa stiamo parlando insieme con il nostro consulente e il nostro la nostra persona di fiducia auguro a tutti quindi un buon mese dell'educazione finanziaria e appuntamento al prossimo podcast